Autostart. Autostart che prende velocità. Con prudenza Easterlake. Elettra Capar superata da Ellie Dipi. Il sorpasso non si concretizza ancora. Elettra Capar tiene i piedi di dentro ad Ellie Dipi. Che è costretta a ritrarsi in seconda posizione. Così 200 metri in 14 e 6. La Washington affidata a Vincenzo Gallo a menare le danze. Ellie Dipi in seconda posizione. Precede Ia Balucs. Quarto alla corda Easy Step. Per linee esterne Eris Losapio. Seguito nell'azione da Evita Waiselle. Terza pariglia per Easterlake. Primo quarto in decelerazione. Completato in 31 e mezzo. La leader sta portando il cronometro dalla sua parte. E dopo il 31 e mezzo d'apertura addirittura una frazione lentissima in 18 e mezzo. Primi 600 metri in 50. Elettra Capar, Ellie Dipi e Ia Balucs nelle prime tre posizioni alla corda. Adesso muove a largo la favorita Evita Waiselle. 1.7 scarsi gli 800 iniziali. Evita Waiselle va a coprire l'Editipi e gradualmente si porta su Elettra Capar che ha completato il primo chilometro in 1.22.8. Al passaggio davanti alle tribune si attacca alla mano del suo interprete Elettra Capar e comincia a cambiare ritmo. Ultimi 200 metri in 16. Elettra Capar e l'Editipi con ai lati Evita Waiselle. Nulla cambia in testa la gara. Ancora la curva in 16, poi accelerazione di fronte di Elettra Capar affiancata da Evita Waiselle che finisce con lo sbagliare. E così a 400 dalla conclusione c'è solo Eli Dipi ad inseguire Elettra Capar che si allunga, si distende al meglio. La figlia di Waiselle e Thea Del Rio entra in retta d'arrivo con chiaro margine sull'avversaria. Un cost to cost di Elettra Capar e Vincenzo Gallo mentre Eli Dipi cerca di difendere il secondo posto da Easter Lake e dovrebbe essere riuscita nel suo intento. Sul mio cronometro 2,40 e mezzo la media dovrebbe aggirarsi intorno all'1,19 sul doppio chilometro per la portacolori della Maiorso allenata da Vincenzo Castiglia. Per il secondo è più stretta di quanto si possa pensare potrebbe essere Easter Lake all'interno ad aver preso la meglio su Eli Dipi aspettiamo le decisioni del giudice d'arrivo.